Questa donna decide di fare un grande gesto da giovane, adottare cinque bambine. Un compito non semplice è prendersi cura di così tanti neonati, ma lei è riuscita a dare tutto l'amore possibile. Anni dopo, una cosa incredibile l'ha lasciata senza parole. Emily è nata in una famiglia medio borghese, aveva due fratelli e lei era l'unica femmina della famiglia. Per questo possiamo dire che tutti cercavano di proteggerla e farle passare una vita più bella possibile. Proprio grazie a questa famiglia è cresciuta con sani principi e ovviamente con tanta cultura, è riuscita a laurearsi a pieni voti in una prestigiosa università e all'età di 21 anni è riuscita a trovare un buon lavoro in un ufficio in centro. Da lì per 18 mesi ha lavorato senza sosta e con tanta costanza per salire di grado il prima possibile. Incredibilmente è riuscita nel suo intento in quei pochi mesi, non al vertice ovviamente, ma almeno è riuscita a salire di poco per avere più autonomia e sperare di andare ancora più avanti. Ma in tutta questa meravigliosa vita c'era un grosso problema, non era del tutto felice. Molti le chiedevano, cosa può mancarti? Hai tutto, un buon lavoro, una bella vita, è una famiglia che ti ama. Lei sapeva benissimo però cosa le mancava. Una famiglia, una famiglia sua, non la famiglia con i genitori che aveva già. Diceva sempre ai suoi amici più stretti che i soldi aiutano ad avere indipendenza e felicità ma non aiutano a completare al 100% la propria vita. Per questo motivo questo suo desiderio di una famiglia è cresciuta sempre di più. Le relazioni erano l'unico campo in cui non era molto brava. A volte quando stava con un ragazzo non sapeva nemmeno cosa dire. Era sempre così concentrata con il lavoro e la sua famiglia che perdeva di vista i suoi stessi interessi. Anche i genitori erano preoccupati. La vedevano triste a volte per la mancanza di un ragazzo e speravano riuscisse a superare le sue insicurezze. Ma non era così facile. Lei poi sperava di dar loro dei nipoti. Già non erano tanto giovani e se fossero morti prima di vedere dei nipoti sarebbe stata una cosa molto triste per lei. Ma ahimè la vita non è andata benissimo in questo senso. A quanto pare le relazioni erano una cosa impossibile. Aveva avuto soltanto un paio di ragazzi più o meno stabili che però si sono rivelati molto diversi da quello che avevano mostrato all'inizio. All'età di 40 anni quindi Emily era ancora sola e indecisa sul futuro. Non era più giovane e nemmeno bella come un tempo. O almeno lei pensava di non esserlo. Infine arrivò a una scelta. E se adottasse? Questo fu il suo pensiero. Avere dei bambini ma adottati. Preferiva farlo in un altro paese in modo da non avere troppi problemi con la burocrazia del suo. Ma le diedero una notizia un po' strana. C'erano da fare dei corsi prima di poter adottare da paesi stranieri. Perciò si diede da fare e cominciò. Per ben un anno fece questi corsi e ottenne un certificato. In più essendo una madre singola avrebbe dovuto dimostrare di avere una grande quantità di denaro disponibile. Infatti oltre a pagare molto all'agenzia per le adozioni ha dovuto tenere molto denaro in banca. Dopo tantissime peripezie finalmente era riuscita a trovare una neonata vietnamita. Era perfetta. Una femminuccia che aveva visto subito al primo incontro con l'agenzia. Tutto sembrava pronto e i soldi erano stati pagati ma proprio una settimana prima del completamento sorse un problema non da poco. I genitori rivolevano la loro bambina. All'inizio era stato deciso che l'avrebbero data in adozione a causa di problemi lavorativi ma poi a quanto pare le cose si sono rimediate diciamo. Sono cambiate moltissimo nei mesi a venire e ora volevano tenere il loro piccolo. Emily non poteva e non voleva separare una famiglia. Questi le dissero anche che le avrebbero restituito i soldi con un po' di interessi. Infine accettò e perse il bambino. Era troppo crudele fare una cosa simile. In fondo i genitori biologici sono quelli più adatti in molti casi. In altri no ma in questo sì. Insomma passò molti mesi tristi da lì. Sembrava sempre sulla soglia della depressione. Non usciva più e rimaneva a casa dopo lavoro a mangiare patatine e guardare la tv. Non sentiva più molto nemmeno i genitori. Un giorno però durante una normale serata ricevette una chiamata. Era la chiamata che stava aspettando. All'inizio pensò fossero i suoi genitori o gli amici e ignorò. Dopo un po' riprendendo il telefono in mano però notò un numero diverso dal solito. Decise di richiamare e per fortuna che l'aveva fatto. Infatti era un assistente sociale proveniente da una città vicina alla sua. In effetti aveva fatto richiesta anche nelle città vicine giusto per provare. Ma niente di serio perché era sicura non l'avrebbero chiamata per via del suo status da single. Buonasera signorina Emily. Io sono Laura Smith. So che ha fatto richiesta molti mesi fa. Come saprà però non diamo bambini a persone single ma in questo caso c'è una cosa molto particolare. Un caso molto particolare se interessata. Emily disse di sì. Era molto curiosa. Beh le spiego la situazione. Abbiamo cinque neonate sorelle. Un vero miracolo. Qualcosa di eccezionale. Ma non vogliamo separarle o almeno erano le ultime volontà della madre prima di morire. E ci piacerebbe onorarle. Nessuna coppia però ha accettato di prenderle. E molti non avevano le disponibilità economiche. Ma lei sì. Abbiamo visto che ha un ottimo lavoro. Con un ise molto alto. In via del tutto eccezionale quindi mi hanno chiesto di chiamarla. Era una cosa assurda. Ben cinque figlie. Alla sua età per di più. Sarebbe stata capace? Queste furono le domande che si fece. Chiese così all'assistente di darle un giorno per pensarci. Tutta la notte non riuscì a dormire. E se non fosse stata all'altezza? E se fosse successo qualcosa. Ma la mattina seguente i genitori le dissero una cosa molto particolare. Diventare madre figliola non è facile. Ci saranno per forza errori. Ci saranno anche momenti in cui sarai triste. E a volte desidererai anche non essere più madre. Ma non per questo non sei adatta. Chiunque sappia dare amore e si ponga le tue stesse domande è adatto. Ce la farai. Questo le diede la forza di andare e accettare. Il giorno seguente quindi firmò le carte. Ma c'era molto da aspettare. O almeno altri tre mesi. Come detto prima la burocrazia nel suo paese era molta. Infine dopo quel tempo andò all'istituto e le vide. Delle bellissime neonate tutte sane si innamorò immediatamente. Aveva già scelto i nomi. Anna, Sofia, Ella, Natalie e Grace. Aveva anche già preparato il necessario per accoglierle come si deve. Il costo non era affatto un problema per lei. Aveva una casa molto grande. In futuro si sarebbe trasferita sicuramente. Magari quando fossero diventate adolescenti. Infine le portò a casa con molta cautela. Non aveva mai nemmeno preso in braccio dei neonati. Aveva portato tantissimi sedili in macchina. Non c'era quasi più spazio. Il viaggio di ritorno lo fece lentamente. Un assistente sociale sarebbe passato il giorno seguente a casa sua. Le cose da allora cambiarono moltissimo. Prima di tutto cominciò a passare meno tempo a lavoro. Mentre una volta era sempre dedita e sempre a fare orari a volte improponibili. Qualche mese dopo l'arrivo delle bambine era cambiata. Anche in questo ambito. Notò come a volte il tempo non fosse abbastanza. Smise di andare nel weekend per portarle da qualche parte. A volte al parco. Altre volte a fare piccoli viaggi. Dopodiché cominciò a pensare alla situazione in generale. Poteva davvero farcela senza lavorare così tanto? In effetti sì. Qualche anno più tardi mollò il suo lavoro per aprire una sua attività da fare da casa. Un incredibile passo avanti. L'attività all'inizio non andò però benissimo. Poi esplose e cominciò ad avere una marea di clienti ogni settimana. Tutto poteva essere fatto da casa tranquillamente. Passarono altri anni ancora e le figlie erano cresciute molto bene. Amavano Emily con tutto il cuore ma lei non aveva mai detto della vera madre. Infatti loro pensavano di essere le figlie biologiche in quel periodo. Era arrivato il momento anche se un po' tardi di farlo. Non voleva poi pensassero male e lo scoprissero da sola. Ragazze devo dirvi una cosa. È una storia lunga siete pronte? Cominciò così a raccontare tutto dall'inizio con calma mentre le loro facce cambiavano espressione a ogni parola. Non dissero nulla in quel momento semplicemente la guardarono per poi abbracciarla all'improvviso. Grazie per quello che hai fatto. Dissero. Ma la vera sorpresa arrivò anni più tardi dopo la fine dell'università di tutte. All'età di 27 anni circa trovarono anche lavoro tutte quante grazie alle loro lauree e un giorno verso sera decisero di dirle di una sorpresa. Mamma per tutto quello che hai fatto per noi abbiamo deciso di farti un regalo. Domani fatti trovare in questa via. Arrivata sul posto il giorno seguente rimase a bocca aperta. Era una casa non grandissima ma accogliente e adatta a persone anziane. Emily aveva avuto dei problemi con la vecchia abitazione e l'aveva venduta per recuperare dei soldi. Nonostante l'attività andasse bene, a causa di una crisi senza precedenti, in un anno dovette per forza vendere e trasferirsi. E non era ancora finita. Non soltanto la casa ma aprirono anche una ONG a suo nome, un'associazione benefica che avrebbe portato il nome di Emily per sempre. Lee capì di aver fatto una delle scelte migliori della sua vita ad adottare 5 neonate anni prima. Noi ci sentiamo alla prossima gente. Grazie per avermi seguito e spero di rivedervi al prossimo video.